Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Oggi è domenica mattina e non sabato Infatti dopo 5 anni dall'ultima volta in cui Fabio ha giocato di mattina ovvero con l'Etrusca Dal 2018 E si ritorna a giocare di mattina perché fre? Oggi Fabio giocherà con l'Under 19 Vedremo come si comporterà È un test molto importante per lui anche per prendere confidenza, per prendere il minutaggio Vedremo quindi come si comporterà La partita è anche molto interessante Con chi ha antimo? Oggi si gioca al palazzetto dello sport di Baricella Contro il futsal sassuolo Ma dopo andremo a dirvi un po' quello che c'è da sapere su questo match Fabio è stato chiamato pochi giorni fa dal mister Andrej Lo allenerà lui anche quest'oggi con l'Under Visto che è stato espulso il primo allenatore Nicolas Calaia Aneddoto che forse molti non sanno Calaia è anche l'allenatore dell'Under 19 Poc'altro Se non andiamo in macchina e vediamo come si sta preparando anche Fabio a questo match Quali saranno le sue aspettative da questo? Andiamo Eccoci dunque in direzione del palazzetto dello sport di Baricella Lì Fabio giocherà oggi con l'Under 19 Contro il futsal sassuolo Partita molto interessante Comunque andremo a scoprire e andremo a parlarne meglio dopo io e Antimo Ora come sempre ci sono le domande che ci avete posto nei commenti degli ultimi video E vedremo come Fabio ci risponderà e cosa ci dirà Ti pongo una domanda di Marco Rossi Che è anche un po' polemica Dati punti interrogativi e esclamativi Ma perché Fabio non esulta mai ai gol in nessun match quando è in panca? Non è vero Non è vero Esulto sempre A modo mio cioè che sono fatto così Non do molto a vederlo Però esulto a modo mio Cioè sono felice per la squadra Come Balutelli Per me è segnare come un postino che porta alla posta effettivamente Volevo andare adesso con una domanda di Canma2108 Che ti chiede Ti ricordi di quando giocavi nello junior finale? In generale No Comunque è stato l'anno se vogliamo del tuo prime calcistico È stato un anno bellissimo Mi sono divertito davvero molto Non ne ho partito neanche benissimo quell'anno là Però poi sono riuscito a prendere il ritmo Mi divertivo un sacco Mi piaceva sia il gruppo, la squadra Mi piaceva il campo in generale L'allenatore? L'allenatore sì Era tutto il complesso Per cui quell'anno è stato molto positivo Giocavi anche in una posizione che ti dava centralità nel progetto, nella squadra? Sì sì Facevo un po' quello che volevo La faccio il trequartista ma salivo, scendevo, andavo a prendere palla Anche vicino alla difesa Per toccare sempre il pallone Adesso devo andare con la domanda di Incognito Sporco che chiede Ma sbaglio Fabio come se avesse una sorta di autismo? Forse è solo una mia impressione Ma non lo so Si dovrebbe verificare, non lo so Non credo Si dovrebbe verificare? Non è stato l'unico a chiedertelo Nel senso secondo me ci sono diverse persone che magari vedono il tuo atteggiamento Che non è sempre molto aperto Quasi che reprime le emozioni Questo magari porta a queste deduzioni probabilmente inappropriate Ma cosa ne pensi? Non lo so Cos'è che ti porta a non avere e non esprimere tutte queste emozioni? Non sono fatto così Cosa devo dire? Sì ma il problema è che poi anche a noi ci dicono spesso Ma state appuntando una pistola dietro Fabio Ma lo state obbligando Fabio ti veniamo a salvare In verità lui ha il suo modo di vivere questo? È molto tranquillo, è molto apatico? No, no, non apatico Cioè non faccio molto vedere le emozioni ma non sono apatico Domanda di famiglia franfrollata Che dice Qualche volta Perché Però allora questo è un aspetto di cui bisogna parlarne Perché effettivamente te quando usi il destro Lo fai anche bene secondo me È più un discorso di confidenza no? Sì Psicologico Psicologico, coordinativo Però anche quando calci Ti vedo anche nei tiri di scaldamento Non è che calci proprio male È un discorso di confidenza Ok questa domanda è un po' per tutti e tre Andrea Bastelli ci chiede Quali sono i vostri obiettivi per il canale? E quali per Fabio? Vabbè comunque innanzitutto per il canale Penso che l'obiettivo sia quello Sempre di avere maggiori riscontri positivi Cioè speriamo sempre che i video vi piacciono E che comunque ci supportiate sempre Cosa che state facendo tra l'altro per cui vi ringraziamo E per il resto sia sempre quello di crescere Di migliorarci Di portare cose nuove Stiamo crescendo Siamo cresciuti molto anche soltanto Rivedendo il video di Prato Abbiamo notato diversi cambiamenti Tutti positivi penso Soddisfatti anche di questo Speriamo sempre di più di portare cose nuove Di aumentare chiaramente anche con i numeri Di arrivare a 100.000 iscritti prima possibile Certo Chiediamo anche ad Antimo Beh l'obiettivo sì per il canale Come diceva anche Freppo Canzi Secondo il mio punto di vista È quello di arrivare ai 100k Che sarebbe comunque l'obiettivo bellissimo Da sbloccare E poi sì portare nuovi contenuti E riuscire a fare YouTube a tutto tondo Che possa essere davvero un lavoro a 360 gradi In maniera tale da poterci dedicare Anche nel miglior modo possibile a voi Portare sempre nuovi content Con nuovi creator Nuove collaborazioni Nuovi format E quindi è una cosa che ci sta piacendo tantissimo Come diceva anche Freppo È bello il feedback positivo Che ci date anche voi E speriamo di cavalcare l'onda Di continuare così per più tempo possibile E ci godiamo il momento nel mentre E invece tu Fabio Cosa ne pensi del canale? Quali sono i tuoi obiettivi riguardanti questo? Beh sì sono d'accordo Con tutto quello che avete detto voi All'obiettivo del canale E sempre cercare di crescere Farsi che i video vi piacciono sempre E avere quindi un riscontro positivo In generale da voi Per quanto riguarda gli obiettivi personali Riguardo il calcio 5 Invece continuare a giocare A migliorare Di andare meglio anche sotto questo aspetto qua E cercare di prendere sempre di più minutaggio Cercare di fare gol E continuare su questa strada Pietro Rosa chiede Ma quanto è forte il fratello portiere? Non lo so Penso poco Alla fine non gioco più Quindi non credo di essere In un momento in cui sono molto forte Però comunque Dai anche io nella mia carriera Seppure un po' corta Mi sono tolto delle soddisfazioni Ho fatto qualche provino bello Alla spalla E ho avuto anche diverse opportunità Per giocare ad esempio con l'Imolese Con il Legnago Che comunque era affilata all'Atalanta In quegli anni Poi alla fine Sono qua a non far niente Quindi va bene così Siamo dunque arrivati al palazzetto dello sport Di Baricella Antimo sta colpendo un'ottima manovra di parcheggio E poi siamo pronti ad entrare nella struttura E vedere come Fabio si comporterà In questa appunto partita Molto interessante E comunque atipica Eccoci con Fabio Prima della partita con il Sassuolo Oggi partita comunque di livello Perché nonostante giochi con l'Andre 19 Gli avversari sono sicuramente Di un buon spessore Oggi come credi ti comporterai Abbassando comunque anche la categoria Non sono bene a conoscenza del livello Non ci ho mai giocato Comunque spero di fare bene Sicuramente non devo sottovalutare Il fatto che gioco con l'Andre Invece che con la prima Quindi niente Mi devo comunque concentrare E cercare di dare il massimo Poi vediamo come andrà Oggi tra l'altro da allenarvi Ci sarà Mr. Andrej Come sempre E quindi Cosa ti aspetti da lui E cosa ti aspetti anche Da quanto ti farà giocare Se ti farà giocare Sì rispetto al solito Sicuramente mi aspetto più minutaggio Giocando con l'Andre Ovviamente è uno dei motivi Per cui mi ha fatto venire qua Quindi è il momento giusto Per sbloccarsi E poi riuscire a sbloccarsi Anche in prima squadra Ti aspetti di segnare oggi? Lo spero dai Oggi sono costretto a segnare Lo devo segnare Perfetto Noi adesso andiamo con le domande di Antibu Eccoci Fabio Anche con le mie domande Oggi un match comunque complicato Contro il Sassuolo Che vi è dietro Di solamente un punto È una partita in meno Quindi siete costretti a vincere Anche per salvaguardare Quello che è il vostro piazzamento In classifica Oggi ti ha chiamato Andrej Per dare una mano ai ragazzi Pensi di riuscire a dare Il tuo contributo quest'oggi? Spero di sì Spero di far vedere Che comunque Sono abituato alla prima squadra Adesso come ho detto prima Non so quanto ci sia Di dislivello Tra le due squadre Come ho detto prima Dovevo cercare di rimanere umile E dare il massimo Tra l'altro oggi c'è Mr. Andrej Perché Nicola Scalaia Mister dell'Under 19 Non c'è Sarebbe stato bellissimo Vedere oggi in campo Scalaia a darti indicazioni In quanto allenatore Però forse sarà in tribuna Per il resto dai Ti facciamo un grossissimo In bocca al lupo Fabio Per questa partita Non diciamo troppo Ora in fase di prepartita Perché vogliamo parlare Post partita Sono d'accordo Grazie Fabio Buona partita Grazie Eccoci all'interno Del palazzetto dello sport Di Baricella Per raccontarvi Quella che sarà La diciottesima giornata Del campionato Under 19 nazionale Un match comunque Difficultoso Visto che si compete In una manifestazione Comunque nazionale Oggi arriva il Fuzz al Sassuolo All'andata finisce A 5 per gli ospiti Vedremo se il Balza Riuscirà a ribaltare Quelle che sono state Le gerarchie dell'andata Sì Vedremo se anche il Balza Che oggi finalmente Abbasserà anche un po' il livello Vedremo come se la caverà In un contesto Che potrebbe essere Comunque un po' più facile Un po' più alla portata Esatto Fre E ben dal 27 novembre Che il Balza Non riesce a portare a casa Nemmeno un punto Oggi vedremo se riuscirà Di invertire questo trend negativo Che dura da 7 gare consecutive Come accennavamo prima Nel prepartita Oggi sarebbe importantissimo Sigillare il nono posto Per il Balza Perché ha una partita in più Mentre il Sassuolo Ne ha uno in meno Quindi vincere oggi Porterebbe la squadra Oggi allenata da Veli Mirandrec Ma allenata generalmente Da Nicola Scalaia Più 4 Dalla squadra di Reggio Emilia Un Balza nono Con 10 punti Sassuolo decimo Con 9 punti Allora noi ragazzi Iniziamo ad immergerci In questo match Andiamo a scoprire Come finirà la partita Come si svilupperà Noi adesso Andiamo su in tribuna A mettere le telecamere E a prepararci per il match Attrezzatura montata Correttamente come al solito Tutto pronto Manca pochissimo All'ingresso in campo Delle due squadre Manca pochissimo All'esordio di Fabio Con l'Under 19 Quindi vediamo Come si comporterà Abbiamo visto il riscaldamento Molto bene Vedremo ora Quale sarà l'esito Di questa partita Andiamo Palla in mano Per il direttore di gara Pronto a dare il via A quella che sarà La diciottesima giornata Del campionato Under 19 nazionale Che vedrà sfidarsi Balza Fuzz al Sassuolo Oggi chiaramente Gli occhi puntati su Fabio Vedremo come si comporterà Oggi abbasserà anche un po' il livello Oggi sarà comunque Il faro del Balza Quindi vediamo come si comporterà Vedremo come si comporterà Come dicevi anche tu Francesco È stato chiamato da Andrej Per dare una mano Alla causa Balza E anche un po' La prova del 9 Per vedere come si può cimentare In questa categoria Come può trovarsi E se sarà all'altezza Delle aspettative Sì e tra l'altro Sono anche curioso Di vedere il gap Che c'è fra l'Under 19 E la serie B Vediamo come si comporterà Fabio e i compagni Sono curioso di vedere Questa partita Perché comunque Affrontano una squadra interessante Come il Sassuolo Tra l'altro Oggi Tra le file Dei padroni di casa Manca il capocannoniere Asim Edin Ed è anche per questo Che è stato chiamato Fabio Dalla parte opposta Invece il capocannoniere È presente Christian Eque Con 13 reti Ma adesso assistiamo Al 5 delle due squadre 5 che inaugurerà In via definitiva Questa diciottesima giornata Del campionato Under 19 nazionale Ma ora un po' di news Un po' di statistiche Sull'incontro Il Balza Pensate un po' Non riesce a ottenere La via della vittoria Dal 27 di novembre Ben 7 risultati negativi consecutivi Il Fuzz al Sassuolo Invece reduce da un punto Nelle ultime tre gare Sì e tra l'altro Ricordiamo che il Balza Ha un punto in più Rispetto al Sassuolo Che però ha una partita in meno Quindi chiaramente È una partita molto delicata Che il Balza Non può sbagliare È uno scontro diretto Tra l'altro oggi comunque Vediamo se Fabio Riuscirà a cambiare Un po' l'ago della bilancia Per quanto riguarda il Balza Se riuscirà comunque A fare una buona prestazione Ci aspettiamo comunque Un buon minutaggio Fabio che ora parte titolare Subito Andiamo anche a citarvi Quelle che saranno Le formazioni che scenderanno Da qui a breve in campo Partiamo con i padroni di casa Che schierano Rinaldi in porta Davanti a sé come ultimo Troviamo Bacillieri Laterale destro Di Mauro Laterale sinistro Romano E come pivot Simone Dalla parte opposta invece Per il Fuzz al Sassuolo Troviamo Bella in porta Davanti a sé come ultimo Giuliano Laterale destro Candeloro Laterale sinistro Guidetti E come pivot Equè Capocannoniere di questa squadra Ma adesso è tutto pronto Vediamo Andrea Simone Fratello di Fabrizio Tra l'altro pronto a dare il via A questo incontro Che avviene ora Scarica subito all'indietro Per il numero 14 Che va proprio ora da Fabio Uno sguardo davanti a sé Decide di tornare sempre Con la collaborazione di Bacillieri Dunque Simone Torna sempre dal 14 Ora cerca di far girare il pallone Con qualche rischio il Balza Si riesce a riappropriare Del pallone Bacillieri Dopo averlo perso Per un primo istante Ora la palla giunge a Romano Bella l'imbucata Da parte dell'otto Che non riesce però A servire Equè Ora può ripartire Fabio Sprinta l'11 Che sfida un po' tutta la difesa Bello il guizzo Che poi però si perde Lateralmente Esce anche il portiere Tra l'altro Che scorta L'uscita del pallone Ora Candeloro Che va indietro dal capitano Il numero 3 Giuliano Che va a servire Ora Bellè Uno sguardo davanti a sé Cerca la verticale Per Equè Che difende il pallone Dall'aggressione di Bacillieri Poi qui scarica l'indietro Attenzione Non ci arriva il capitano E arriva Simone Che col sinistro Apre le danze E sigla il vantaggio Dopo appena un minuto e 15 secondi Settimo gol in stagione Per Andrea Simone Si ed è comunque un bel gol Perché il tiro è difficile E complicato Riesce a punire il portiere avversario Sul primo palo E beh lei non può nulla Sul gol che vale L'1 a 0 per il balzo Vediamo qui Non ci arriva Giuliano su questo pallone Ne approfitta Simone Come abbiamo visto dal replay Il pallone Troppo laterale Rispetto a quello Che avrebbe voluto Il numero 3 Adesso Simone Vada Fabio Vuole il centro Poi dialoga bene con Simone Che ha lo spazio per il destro Lo fa partire Un destro tenebroso Poco movimento Da parte del balzo Cerca di fare movimento Ora Fabio Che viene a prendersi palla Nella zona centrale Poi va a servire per Simone Che ha lo spazio ancora Per il sinistro Lo fa partire Adesso il lancio lungo di Bellè A servire Cristiane e QE Come si gira il 6 Il destro Mamma mia Che squillo Qui per il futsalzassuolo Fabio Davanti a 6 guidetti Bello il numero di Fabio Che difende benissimo Il pallone Fa fuori un uomo Poi due Poi Vorrebbe un fallo Con il direttore di gara Lì a due passi Che Non glielo concede Adesso ancora chi è regato Cerca la verticale immediata Pallone si disperde Nel nulla Seguiamo Fabio Che recupera il pallone Va al sinistro Rimpallato Fabio viene a prendere palla Centralmente Lo riesce a fare molto bene Poi fa partire il sinistro E QE Si mola Sul tentativo di tiro di Fabio Calcio di punizione Per il balsa Con Oxa Che va ora da Fabio Che sfida Gitali Fabio sul destro La parata Di Bellay Bello qui il numero di Fabio Bello il guizzo Da parte del numero 11 Andiamo a vedere anche ora il replay Ha sfidato il nuovo entrato Gitali Classe 2003 Bello Forbice esterno Destro E poi dopo Però senza troppi problemi Il portiere riesce comunque a sventare il pericolo Però l'iniziativa È sicuramente buona Ora Fabio Sfida in 1 contro 1 Gitali Poi qui un po' troppo lento Nel decidere cosa fare Gitali riesce a sventare il pericolo Ma ora Rigosi Dentro sempre per Fabio Il numero sul 7 Il numero anche sul 3 Poi mette questo pallone dentro E qui bravissimo Gitali Che rimedia l'errore in precedenza Con la punta del piede sinistro Svente il pericolo Rivediamo qui Gitali Rigosi bene la palla per Fabio Che riesce a superare bene Prima Gitali Poi Giuliano E poi serve questo pallone al centro Sventato proprio con la punta del piede sinistro Da parte del 7 Si Belguizzo da parte di Fabio Penso che qua Peccinini potrebbe essere un pochino più sveglio Perché alla fine la palla è molto interessante Maccata anche un po' di cattiveria lì Perché secondo me si poteva fare Il 2-0 su questa circostanza Adesso bello il dreaming di Fabio Ancora su Gitali Dialoga bene Peccinini Cosa stavano costruendo qua Il 9 e l'11 Esce Fabio Che non ha ancora trovato il gol In questi primi 8 minuti Però sicuramente è buono l'apporto Il contributo che ha dato alla propria squadra Rientra Andrea Simone Ora Andrea ha qualcosa da dire a Fabio Insomma indicazioni tattiche Molto bene Simone E arriva anche ora Molto bene Simone Tunne le danni di Candeloro Poi è QE con qualche difficoltà Ancora Simone Che venne a scarire Romano Che cerca il dreamy sul portiere Fallo Adesso vedremo Quale sarà la decisione Del direttore di gara Perché questo fallo È un po' al limite Tra il giallo e il rosso Opta per il cartellino giallo Il direttore di gara Primo giallo della partita Per il portiere Bellei Sì fallo che ci sta Penso anche alla munizione Anche perché c'erano già Diversi avversari Che stanno andando a coprire il portiere Adesso Fabio comunque È pronto già a rientrare Vedremo se poi la punizione Tirerà lui Entra al posto di Romano Quindi Esce il 10 Entra l'11 Pronto a caricare il mancino Qui Adesso vediamo anche come Se la cavrà su calcio di punizione Fabio Non l'abbiamo mai visto all'opera In questa specialità Ora l'opportunità di far vedere Quello che sa fare Col direttore di gara Che invita intanto Gli ospiti a mantenere le distanze Tutto pronto sul punto di battuta Con Simone Che vada Fabio Riesce a neutralizzare Il tentativo Bellay Con lo stinco destro Se non ho visto male Vediamo Anche ora dal replay Sì riesce a neutralizzare Con lo stinco destro Incredibile Fallo laterale Affidato ai piedi Del numero 14 Baciglieri Che va da Simone Che chiama L'avanzamento Del mio entrato E Naccali Poi Simone va Sempre da Fabio Che duella con il quello Fa fuori secco Poi fa fuori anche Candeloro Poi vada E Naccali Lo spazio per il destro Lo trova Poi Fabio Di Mauro E arriva il gol Del 2-0 Arriva il primo gol In stagione Con la maglia del balza Da parte di Fabio Di Mauro Bella il destro di Naccali In questo caso Non perfetto Bellay E Fabio da due passi Non può fare null'altro Se non il suo primo gol In stagione Nel calcio a 5 Sì molto bravo Fabio Perché prima riesce a trovare Lui lo spazio A servire Naccali Che poi trova la conclusione Rispinta corta Da parte del portiere Ma lui attento Lì nel posto giusto Il momento giusto E trova il 2-0 Gol molto importante Anche a livello psicologico Questo per Fabio Come vediamo anche da replay Per poco Non riesce a intercettare Il tiro Da parte del numero 11 Tocca con la mano Sinistra Ma non è sufficiente A negare il gol Il primo Di questa stagione Il primo nel mondo del futsal Adesso arriva il time out 2-0 balza E ora sbaglia tutto Guita Li capisce tutto Naccali il destro La palla Sibile il palo E si perde sul fondo Per poco Non trova anche la rete Del 3-0 Vacillieri Poi la palla arriva a Fabio Che è di mestiere Col fisico Riesce a proteggerla Dagli attacchi avversari Fabio Dreaming di Fabio Fabio Il sinistro Si perde sull'esterno Della rete Adesso Simone Va da Fabio Lo stop con la sola Dell'11 E poi il sinistro Toccato da Equè Che sventa nuovamente Il pericolo Bellissima la bordata Di Fabio Che Ne vuole fare subito Un altro Adesso Simone Va proprio dall'11 Però la palla Viene respinta Da Guitali Bellè Lungo per Equè Fallo Da parte di Naccali Che contrasta in maniera Non regolare Di Candeloro Fa partire il destro Palla alta Sopra la traversa Adesso Rinaldi Pronto a distribuire Il pallone a Bacillieri Uno sguardo davanti a sé Va a premiare Fabio Il numero di Fabio Su Guitali Che lo fa fuori secco Poi ancora Fabio Fino in fondo Fabio Fa fuori anche Bellèi Di Mauro E arriva anche la rete Del 3-0 Secondo centro stagionale Per Fabio Che ha fatto sedere Un po' tutta la retroguardia Avversaria E sigla così Il triplo vantaggio Del balza E ora esce Lascia il posto A Peccenini Sì molto bravo Fabio In questa circostanza Riesce a trovare il guzzo giusto Sulla fascia destra Adesso anche l'indicazione Da parte di Andrej Sicuramente un gol bellissimo Anche un po' con la collaborazione Da parte del Sassuolo Però bravo a scartare tutti Bravo a scartare anche Bellèi E a Fare il gol che vale Del 3-0 Assolutamente Molto bene qua Fabio Rivediamo anche dal Nostro secondo replay Bellissimo il numero Su Ghitali Poi Bella anche la vita Con la caviglia A disarmare il portiere avversario Dopo insacca così Davvero un gol Di pregevole fattura Quello del numero 11 Che si sta divertendo E ci sta facendo divertire Quest'oggi Bello il numero Ora sul 2 E va al destro Sventa tutto Bellèi Attenzione che ora È un 2 contro 1 Candeloro sfida tutta la retroguardia E poi si sposta la palla Sul sinistro Candeloro Arriva anche il suo Ottavo centro In stagione Bellissima la ripartenza Brutale Per il Balsa Prolifica Per il Fuzz al Sassuolo Bravissimo Candeloro In questa circostanza E bravo anche qui Che gli crea lo spazio giusto Per farlo andare sul mancino E chiaramente Apera difesa del Balsa Conclusione Ottima Che batte il portiere Del Balsa Vale il 3-1 Tocca a Rinaldi E poi il pallone Bacia la traversa Adesso il pallone È messo al centro Capisce tutto Rinaldi Che arriva sul pallone Ci arriva anche Cue Che va da Candeloro Il tiro di punta E ora Giuliano Va da Candeloro Simone si sovrappone 0 secondi Suona ora la sirena Finisce in questo istante La prima frazione di gioco Che dice Balsa 3 Fuzza al Sassuolo 1 Fre Fabio è stato chiamato Con uno scopo Quello di dare una mano Alla casa Balsa Direi che ci sta riuscendo ampiamente Si è riuscito nel corso del primo tempo Ha realizzato 2 dei 3 gol Per il Balsa Il secondo sicuramente molto bello Il primo molto importante Sotto l'aspetto mentale Balsa che sta disputando Un'ottima partita Il Sassuolo Che ha concluso crescendo La prima frazione di gioco Eccoci alla fine del primo tempo Al palazzetto dello sport di Baricella Il punteggio dice Balsa 3 Fuzza al Sassuolo 1 Una bellissima partita Fabio è stato chiamato Da mister Andrej Per dare una mano Ed è quello che sta facendo Fre Si sta giocando bene Alla fine comunque Stiamo vedendo che è anche Al di sopra del livello Però comunque sta facendo Quello che deve fare Ha fatto ben due gol Che comunque psicologicamente Lo possono aiutare molto Anche per le partite Con la prima squadra E comunque gli avversari In fase difensiva Non sono così male Sono molto grossi Sono molto compatti Non sono sicuramente facili da saltare È stato difficile anche trovare La chiave giusta Per sbloccare questa partita E anche dopo L'essersi sbloccata È stato comunque difficile insistere Fabio molto bene Bellissimo il secondo gol Un'invenzione Il primo fortunato Però ci sta Deve stare lì Ed è quello che ha fatto Quindi molto bene Sarebbero tre punti fondamentali Perché come ricordavamo Anche precedentemente Sigillerebbero Il posizionamento in classifica E si porterebbero A più quattro Dal Sassuolo E il Sassuolo Ha una partita in meno Quindi anche in caso di vittoria Andrebbe a meno uno Dunque ora adesso Possiamo andare con il secondo tempo Mentre i ragazzi Stanno tornando a prendere posizione In campo Riprendiamo posizione E iniziamo Per i prossimi 20 minuti Pochi istanti All'inizio di questa seconda frazione di gioco Troviamo sul punto di battuta Cristian Eque Che vorrà sicuramente riscattarsi Da un primo tempo Primo diretti A livello personale Vedremo quale sarà la sua reazione Vedremo quale sarà la reazione Anche della squadra Di mister Velli Mirandreic Ora Eque Difende molto bene Il pallone Eque Si gira In maniera egregia Su Vinnazzani Che commette anche fallo Adesso Eque Pronto a partire A far esplodere il destro Lo fa ora Para molto bene Rinaldi Prima con la mano Poi col piede E poi Fabio E poi ancora Eque Qui come si salva il balza Bravissimo Rinaldi In due istanti A neutralizzare le tentative avversari Poi Fabio Si mola E impedisce l'accesso Del pallone in porta Del potenziale 3 a 2 Calcio d'angolo Battuto proprio ora Candeloro Per Eque E che si divora In questo caso La palla del 3 a 2 È un passo E su Rinaldi Va da Fabio Ha tanto spazio davanti a sé Il numero 11 Che sfida in uno contro uno Guitari Lo fa fuori secco Per la seconda volta Fabio Di Mauro E arriva alla rete Del 4 a 1 Tripletta per lui Quest'oggi Qui bravissimo Il portiere Rinaldi Che ha capito l'intenzione E ha capito Che era scoperto Il full salzassuolo E nescato il numero 11 Che in contropiede Non ha perdonato Bravissimo Fabio Che aveva tantissimo spazio Di disposizione Sulla fascia destra Ancora una volta Scappa via Dribba gli avversari E poi Infila Per la quarta volta Il portiere avversario Bravissimo Rivediamo qui dal replay Quanto è bravo Nel spostarsi Il pallone Praticamente una crocchetta E poi Il tiro sul secondo palo Per infilare Ancora una volta Il portiere del sassuolo 4 a 1 Ha rimesso le cose in chiaro Qual balza Perché non è partito Per niente bene E ora fallo laterale Per il fuzz al sassuolo Affidato ai piedi Di Giuliano Che va da Guidetti Uno sguardo durante a sé Cerca una soluzione Che non trova Poi forza la verticale Capisce tutto Fabio Tutto solo contro Bellai Fabio La respinta Del numero 1 avversario Che lo neutralizza Così E vuole ripartire subito Ora l'1 Buca un po' L'intervento Qui Romano E ancora una volta Giuliano in possesso palla Primeggia Sul numero 10 Poi cerca di imbastire Un'azione perigolosa Lo fa con la collaborazione Di La Barbera Che va dentro Per Guidetti Accorcia le distanze Proprio Guidetti Il numero 8 Porta il sassuolo A meno 2 Un gol importantissimo La seconda rete stagionale Quella del 4-2 Praticamente con il polpaccio Guidetti riesce a trovare Il gol del 4-2 Bazza un po' impreparato In questa circostanza Sul secondo pallo Si fa trovare solo E il numero 8 Non può sbagliare Gol che vale il meno 2 Adesso che bello Qui il lavoro di Fabio Proprio Prima sulla Barbera E poi su Calderolo Mamma mia Qui che protezione palla Attenzione Calderolo Fino in fondo Che parada qua Di Rinaldi Il Bazza Chiaramente non deve Abbassare la guardia Adesso il sinistro A parte di Calderolo La palla però Si perde Alta Adesso Rinaldi Va a innescare Subito Oxa Che va dentro Da Simone E arriva Che nei momenti Che nei momenti quasi peggiori Dunque il Bazza Di Guidetti Di Guidetti Sinistro Capisci tutto Oxa Che calcia Ma spedisce la palla Adesso a Fabio Che guarda la porta La cerca E la trova Fabio Di Mauro Poker personale Per lui quest'oggi Mette un'ipoteca Sulla partita Da lontano Da lontanissimo Trova il gol 6 a 2 E Oxa se la ride Perché probabilmente Anche il suo tiro Si è andato verso la porta Fabio lo stoppa Con la faccia E poi insacca Il gol da lontanissimo Il 6 a 2 Gol comunque bellissimo Perché è vero Che la porta è vuota Ma comunque Distanza siderale E trova un gol Bello Molto bello Vediamo qui Si quasi Forse con le mani In protezione della faccia Poi il tiro Perfetto Che si insacca Con maestria Adesso è 6 a 2 Ed esce anche Il numero 11 Per far spazio Al 13 E Naccali Da questi a Guidetti Che vuole una soluzione In verticale Non la trova Pecciani Capisce tutto Poi Simone E arriva la rete Del 7 a 2 Nonché tripletta personale Per Andrea Simone Che chiude una partita Che era già chiusa Si molto bravo Simone Gol non facile Riesce a trovare Il suo at-trick personale 7 a 2 per il balza Sassuolo Ormai Alle corde Alle corde Manca pochissimo ormai Pochissimo alla sirena Forza a questo passaggio E qui Che trova Guidetti Che poi spedisce la palla Addosso a Mei Che riesce A neutralizzare così Il tentativo del numero 8 Poi Guidetti Da questi ai Cue Che vuole lo spazio per il destra Non lo trova Capisce tutto Vanini Che va da Ocsa La porta è sguarnita E arriva anche l'8 a 2 Che chiude L'incontro sulla sirena E poi l'esultanza Di Lorenzo Ocsa Pronto a giocare Questo pallone all'indietro Lo fa In direzione Candeloro Che ignora il pallone Perché finisce qui Il punteggio dice Balza Poggese 8 Fuzz al Sassuolo 2 Una bellissima partita Cosa ne pensi Fred? Si bella partita Comunque Fabio Adesso parla con Ocsa Chissà di cosa stanno parlando Probabilmente del gol precedente Di Fabio Dell'ultimo Però comunque Bravo anche lui Bravo anche Fabio Che oggi ha disputato Un'ottima partita Ha segnato il 50% Dei gol della sua squadra E adesso saluto i finali Per comunque Una bella partita E allora andiamo a sentire Le considerazioni che hanno I nostri ospiti I protagonisti di oggi E anche Nicola Scalaia In veste di mister Eccoci finalmente nel post partita Di Balza Fuzz al Sassuolo Il punteggio finale dice 8 per i padroni di casa 2 per gli ospiti Una bellissima partita In cui Fabio comunque È riuscito a dare il suo contributo Alla squadra Dopo lo andremo a sentire I nostri microfoni Tu cosa ne pensi Fred? Di questa partita? No Fabio onestamente Oggi mi è piaciuto Anche se magari il livello Non era alto come quello della B Però ho visto proprio Una certa consapevolezza Anche sentirsi superiore al livello Ma nel senso positivo E poi anche mostrando In campo facendo comunque 4 gol Buona la prestazione Ma buona anche l'approccio E l'attitude che ha avuto oggi Fabio Inoltre abbiamo qui anche Il mister dell'Ande 19 Nicola Scalaia Ciao a tutti Che oggi è stato sostituito Dal mister Andrej Però in generale Come ha avuto la prestazione Dei tuoi ragazzi? Guarda sono soddisfatto Sono soddisfatto Dell'atteggiamento Poco per altre cose Ma appunto c'è la settimana Per migliorare ogni aspetto Mi è servito anche Vedere i miei ragazzi da fuori Per accorgermi di cose Che magari da dentro al campo Essendo che bisogna guardare Molti aspetti Chi deve entrare Chi può giocare Adattarsi agli avversari Provare a interpretare il gioco Ci sono tantissime cose Che magari un allenatore Deve fare in quel momento E niente Quindi mi ha aiutato Per un certo aspetto Del resto I ragazzi sono molto bravi La cosa che mi dispiace È che non ho la possibilità Di allenarmi con tutti Solo col calcio 5 Perché molti di loro Fanno calcio 11 Essendo una società Che è ampia E ha il doppio tesseramento Voglio ringraziare i ragazzi Per non aver avuto Cali di attenzione Voglio ringraziare Nico Che è stato in porta Davvero strepitoso Insieme a me Che sono riusciti A mettere in archivio Il risultato Dunque adesso Andiamo a sentire I protagonisti Di questa partita Volevo anche dire ragazzi Fatemi sapere la vostra impressione È ormai tre mesi Che rompo le balle A Fre per farlo venire in porta È ora che si dia una svegliata E che venga a darmi una mano Quindi fatemi sapere Se volete vederlo In questo nuovo content Dell'Under 19 In porta tra i pali E mi raccomando ragazzi Sta a voi la scelta Perché lo vedo molto indeciso Cosa ne pensi Fre? Sicuramente è bello L'ho visto giocare oggi È sicuramente divertente Io in questo momento Mi sto prendendo un po' Una pausa in generale Mi piace giocare per divertirmi Però se ce ne sarà modo E se ce ne sarà occasione Sono sempre disposto a tornare Facciamo una cosa Se questo video arriva A 7000 like Fre va in porta al Balsa Eccoci nel post partita Con due ospiti speciali Con due giocatori Dell'Under 19 nazionale del Balsa Matteo Peccianini E Manuel May Come avete visto La partita quest'oggi Una vittoria che mancava Dalle 27 di novembre Sette risultati negativi consecutivi Oggi una vittoria Che fa bene al morale Tutta la squadra Partiamo con Matteo Si fa bene al morale Perché mancava da tanto la vittoria Secondo me abbiamo giocato Una bella prestazione Nonostante non tutti giochiamo A calcio a 5 Veniamo tutti a calcio a 11 Fa molto bene alla squadra E speriamo che le prossime Vengano ancora meglio Comunque un'iniezione di fiducia In vista anche I prossimi partiti E Manuel Si le prossime partite Saranno magari Un po' più complicate Anche se abbiamo già incontrato Le prime squadre del campionato Dobbiamo continuare a fare Delle ottime prestazioni Come quella di oggi Per provare a lottare Per andare magari Un po' più avanti Nella classifica All'andata la diciamo Che l'abbiamo buttata via Un po' noi Nel senso Non eravamo concentrati Però lo spedevamo già Che comunque eravamo superiori A loro secondo me E stando con la testa Si è riusciti a vincere Con un risultato netto Allora noi ringraziamo Manuel e Matteo Per l'intervista che ci hanno concesso In bocca al lupo ragazzi Grazie mille Matteo Grazie mille Manuel E in bocca al lupo Per i prossimi appuntamenti Eccoci con Fabio Appena terminata la partita Che ha visto il balza Vincere per 8 a 2 Contro il Sassuolo Hai giocato comunque bene Ne lo sai anche te Hai segnato il 50% dei gol Dunque ti faccio la stessa domanda Che prima ti ha fatto Andrej off camera Ti sei divertito oggi? Si dai È normale divertirsi Quando si gioca tanto Si fa gol Chiaramente il livello Non è quello della B Però ci si diverte Da giocare così Allora ho notato una cosa Una cosa anche insolita Quando ti segni Sul primo gol Che è il più facile fra tutti Ho visto un sorriso Comunque molto liberatorio Quasi come se comunque Il gol nonostante magari il livello Ti abbia comunque condizionato Ti abbia fatto stare molto bene E anche uno sblocco psicologico Beh si Sicuramente fare gol Aiuta a visualizzare A farne altri Quindi è importante anche Fare gol Anche se non è la serie B Sicuramente i gol aiutano E può essere utile Questa partita Anche se non è il livello della B Lo stesso può essere utile Per fare altri gol in B Ecco quello che anche mi chiedevo È il primo gol Appunto anche essendo il più facile Può aver indotto gli altri Fatto quello che magari Ti ha fatto rompere il ghiaccio Ti ha fatto stare meglio Più tranquillo Ti potrebbe aver condizionato Anche nelle altre realizzazioni Successivamente Tutte e tre bei gol Si può essere Si comunque È necessario sbloccarsi Infatti l'ho fatto con il gol più facile Si se ci si sblocca È normale avere un po' più di fiducia Un po' più di possibilità Di rischiare Eccoci Fabio Anche con le mie considerazioni Oggi una partita assolutamente da vincere Per preservare il posizionamento In classifica Come avevamo ricordato anche prima Quest'oggi Si è stato chiamato da Andrej Per un obiettivo Quello di dare manforte Alla causa balza Under 19 nazionale Ci sei riuscito Si chiaramente Non è lo stesso livello Tra serie B e Under Comunque ringrazio il mister Per avermi dato l'opportunità Di mettermi alla prova In questo contesto E acquisire esperienza Minutaggio Che comunque sicuramente Saranno utili per il futuro Anche in serie B La partita inizialmente Non è stata facile Poi siamo riusciti a sbloccarla Portarci avanti E poi si è messi in discesa E qual è stata la problematica O la difficoltà principale Che hai riscontrato tu O la squadra All'inizio di questa partita E anche inizio al secondo tempo Perché siete partiti Un pochettino in difficoltà Gli avversari hanno una squadra Abbastanza fisica Poi noi siamo andati Poi in difficoltà C'era un po' di casino Comunque si nota La difficoltà che c'è Ovviamente nei movimenti Se parte della squadra E' abituato a giocare a calcio ad 11 Invece che a calcio a 5 Me ne rendo conto Perché ho fatto anch'io Questo passaggio da poco Ed è normale creare Un po' di disordine in campo Qual è stato secondo te Il gol più bello Che hai fatto oggi? Penso il secondo Non il terzo Sicuramente non mi ricordano Anche più le differenze Sì forse è meglio il terzo Sì Noi adesso andiamo in chiusura Chiamiamo Fre E chiamiamo anche Un ospite speciale A questo punto qui Perché abbiamo il mago Del palazzetto dello sport di Baricella Nonché mister di questa squadra Under 19 Oggi squalificato E per quello che Non è riuscito a partecipare A questa partita Non è riuscito a allenare Fabio Sarebbe stato bellissimo Vedere Calai Allenare Fabio Quest'oggi Sarebbe stato un sogno Oggi purtroppo Sì come ha detto Antimo Ho avuto rosso la scorsa giornata Ho preso il rosso Quindi ho dovuto saltare Per forza questa I ragazzi sono stati bravissimi Poi in panchina Avevano un degno sostituto Se possiamo dire così Mister Andrej Che è un maestro di questo sport Che li ha indirizzati Sicuramente Verso appunto la vittoria Mi è piaciuto L'approccio di l'intera squadra Perché nonostante Comunque fosse difficile Avere un'altra persona In panchina Come figura Che indicasse appunto In un altro modo di lavorare Sono stati lì sul pezzo Hanno fatto quello Che chiedeva il mister E niente Sono soddisfatto anche di Fabio Perché la cosa Che mi ha sorpreso Di più di tutte È riuscito ad aiutare I propri compagni Con la sua figura Magari non parlando Facendosi trovare In determinate situazioni Portando la palla In determinati appunto Momenti della partita È riuscito ad aiutare I compagni Cosa non da poco E sono sicuro Che questa partita Che ha fatto Gli servirà in un futuro Per aumentare minuti Consapevolezza Delle proprie potenzialità Per incidere di più Sulle partite della prima Continua così E in bocca al lupo per tutto Grazie Nick Ringraziamo Nick Per le sue considerazioni Come al solito Adesso possiamo andare Definitivamente in chiusura Fred passo la palla a te Noi ragazzi Vi ringraziamo Per essere arrivati Fino a questo punto del video Mi raccomando Fatevi sentire sempre Con il vostro supporto Iscrivetevi al canale Attivate la campanellina Per rimanere sempre aggiornati Con le notifiche Mi raccomando Lasciate mi piace a video E come sempre Tanti commenti A cui risponderemo Nel prossimo video Noi ragazzi Vi ricordiamo anche Di seguire Nicholas su Instagram Che si chiama Con il nickname Nicholas Calaia Ragazzi Più facile di così Non ci può Con la I lunga Con la J E noi ragazzi Vi ringraziamo Per essere arrivati Fino a questo punto Del filmato Ci vediamo alla prossima Alla prossima Vamo Alla prossima